Con il prefetto a che punto è il lavoro sul trasporto pubblico in vista dell'avventura delle scuole per gli appartamenti che hanno? Sul lavoro pubblico, più che sul trasporto pubblico dove le regole sono definite è sugli orari della città. Il prefetto sta completando gli incontri anche con i rappresentanti dei commercianti, credo che nei prossimi giorni sarà anche lui pronto a dire quello che intendiamo. Ma si resta sull'idea delle fasce o cambia qualcosa? No, no, si resta sull'idea di scaglionare un po' gli orari di apertura.